Luigi Pezzoli compie 101 anni, ma qual è il segreto? I miei segreti sono a circolo con questi pilonchi, ma qual è il segreto? Dov'è nato? Chi è adesso? E che lavoro ha fatto? Ho fatto il minatore 5 o 6 anni e dopo ho fatto il contadino. Il minatore dove? Dove è il minatore? Si, 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 Pagarello. Che è sopra Valzzurro, giusto? Si. Quindi in una miniera di barite? Si. E com'era lavorare lì? Ma direi, allora, perché in galleria, lavorare è bello perché è sempre la medesima caloria. Le miniere che tu avevi frecce, non tu frecce, non tu costa. E tu che è sempre la medesima caloria. Invece poi ha fatto anche il muratore, lì magari ogni tanto faceva anche freddo. Eh, portò i fulteri. Lei ha otto figli, sei femmine e due maschi. Eh. Una bella famiglia. Eh, in cui ne ho spaventato. Poi ha circa quindici nipoti e sette pronipoti. Eh, ha quel polso mio a me, a quintagli. Sabato poi tutta la famiglia la festeggerà, perché poi è un giorno in cui i nipoti e i figli sono libri del lavoro, ci sarà una grande festa. Va bene. A me che sto... Certo che potrà... Alla me è tale. Cosa ricorda di bello della sua vita? Qualche momento così di gioia? No, no, no. Non a me ho sempre trepilato, sempre. Perché non le ha fatte e quindi... Sempre al lavoro? Sempre al lavoro. Famiglia e lavoro? Famiglia e lavoro. Ma un segreto particolare, magari qualcosa che ha mangiato, che le ha permesso di arrivare sino ad oggi, qual è il suo piatto preferito? Ma ricorda mio, che forse è il vergo, ma è che sono dimenticato. Prima lei mi ha detto una frase in bergamasco, bisogna prendere quello che arriva. Questo è un po' il segreto. Mi c'è parla anche il caffè. Quindi bisogna essere un po' anche felici di quello, di come vanno le cose. Sì, beh. Che mi dà lamentare? Ma in questo momento, di verità, a regola di Aicago, che mi dà lamentare? Perché di marzo te ne goto. Mangi, via e dopo pretendi così. Quindi come passa il tempo? Con tranquillità? Ogni tanto fa qualche passeggiata? Il tempo è un po' che sono destrata umana, un po' più tante. La chiamano tata? Tata. Per tutti in famiglia lei è tata? Sì, non te lo faceva mai tata. Un nono era poco. Anche il suo nonno era il tata. Sì, sì, sì. Ed è contento quindi della sua famiglia? Sì. Le danno tante soddisfazioni? Ma sono contento della mia famiglia. La mia famiglia è finita. C'è un'imitore?